Abbiamo fatto di tutto e di più, abbiamo fatto la cosa più normale di tutte. Sottchiarci. Ascoltate il suono che io faccio, guardate a che distanza sono, guardate come tengo le labbra. No, no, stai, vai a temperare. Ok, fate solo questo. Almeno 40 bolle devono avere il cuore, almeno. Non posso fare anche 100. Cosa succede? Quando vi manca il fiato, naturalmente uno spinge di più e allora rompe la membrana. Invece il soffio deve essere assolutamente regolare in stanza. Abituatevi a fare le bolle verso l'alto. Perché? Perché se le faccio qui casca subito. Se le faccio qui, vado su. Bravi. Soffi troppo forte così. Tu le fai troppo grandi. Soffio l'alto, soffio di più, così. Brava. Bravissima. Questa è la tecnica giusta. Poi, posso soffiare qui, ma posso soffiare qui, posso soffiare qui. Posso soffiare circolarmente, no? Ci sono decine di modi, cercate i differenti modi. Posso soffiare con la bocca aperta, con la bocca chiusa. Allora, scoprite da soli voi tutte le possibilità di soffio che ho. Iepitevi bene i polmoni, in fondo. Sì. Sì. Variate la distanza del soffio. Vicidissimo, un po' più lontano, lontanissimo.